«Je suis Charlie», dice il cartello ottenuto da Maometto, e la frase «Tutto è perdonato». Così Charlie Hebdo sarà nell'edicole della Francia e del mondo mercoledì mattina un numero speciale che in un certo senso viene dall'altro mondo. Le caricature sono uscite tutte rigorosamente dalla matita dei disegnatori storici del giornale, irresponsabile come recita la testata, compresi i disegni di coloro che hanno pagato con la vita il delitto di libero pensiero. Ovviamente riprendiamo i disegni mai pubblicati di Camus, di Georges, di Honoré, di T-News, di Charbe, li potrete vedere, ci saranno dei testi. E a noi fa molto bene, dice Pelou. La redazione di Charlie Hebdo, sopravvissuta all'attentato di mercoledì 7 gennaio, è ospitata nei locali di Liberation sotto massima sorveglianza. L'effetto Charlie in Francia non solo è tale che il giornale satirico, normalmente tirato in 60.000 esemplari, sarà stampato in 3 milioni di copie anziché a un milione, come inizialmente previsto, e tradotto in 16 lingue.